Due diverse esercitazioni programmate fra il Comando dei Vigili del Fuoco di Arezzo e Nuove Acque si sono svolte nei giorni scorsi in due impianti di Nuove Acque Accesa e Appoggio Cuculo. Si è trattato della simulazione di due interventi di soccorso. La prima, Marciano della Chiana, dove il nucleo SAF ha simulato il recupero di una persona infortunata dalla sommità del serbatoio recuperandola con una barella su teleferica e l'altra con calata con corsetto estirpatore. La seconda, presso il potabilizzatore di Nuove Acque Appoggio Cuculo, qui è stato simulato il recupero di due vittime da un pozzo. Una recuperata con dispositivi in dotazione al personale di Nuove Acque e l'altra con cavalletto cevedale e attrezzatura per il recupero di persone in luoghi confinati. Le due esercitazioni hanno avuto l'obiettivo principale di studiare e testare il miglior piano di intervento prendendo volutamente come modello due scenari complessi e inconsueti.